Ciao ragazzi, ho appena finito di registrare la recensione completa con spoiler di Miss Marvel che trovate da qualche parte sul canale o comunque qui nelle schede e in descrizione e sono passato subito, prima di iniziare a editare quel video, a registrare questa spiegazione del finale perché anche dai DM su Instagram, andate a seguirmi anche lì se volete, vedo molta confusione sul finale di questa serie e siccome a sua volta questa del finale spiegato voglio farla diventare una serie ufficiale del canale almeno fino a quando non mi seccherà fare questi video, spero mai perché per ora mi piace molto facciamo questo video Miss Marvel, finale spiegato naturalmente mi concentrerò come sempre sugli ultimi episodi della serie perché è comunque lì che si trova il finale di una serie, negli ultimi episodi ma penso che avrò modo di citare anche altre puntate come primissima cosa vorrei provare a dare una spiegazione ai poteri di Kamran non viene spiegato esplicitamente nella serie ma sembra che la morte della madre di Kamran e il fatto che lei prima di morire abbia detto Kamran potrebbe aver risvegliato da quel portale lo stesso potere che ha Kamala nel bracciale potere che a sua volta ha sbloccato appunto i poteri del Jin in questione quindi semplicemente i suoi poteri simil Kamala sono arrivati in questo modo adesso non chiamiamola più Kamala, chiamiamola Miss Marvel infatti finalmente nell'ultimo episodio, nel sesto, viene chiamata per la prima volta così proprio nelle ultime battute dell'episodio il padre dopo essersi seduto accanto alla figlia le parla dell'origine del suo nome Kamala, perfezione che in urdu però ha un'altra traduzione simile ma non uguale ovvero meraviglia meraviglia in inglese si traduce come Marvel e per la famiglia, lo dice anche il padre, lei è sempre stata la loro Miss Marvel Miss Perfezione, Miss Meraviglia e dopo aver ricevuto da sua madre il costume dal padre arriva il nome e come ho detto anche nella recensione ho apprezzato il fatto che Miss Marvel come supereroina si formi appunto grazie alla famiglia almeno l'immagine di quella supereroina che fino a quel punto aveva semplicemente un costume da Captain Marvel da carnevale e il nome di Night Light, una cosa del genere con questa serie veniamo a scoprire che nel Marvel Cinematic Universe esistono da anni i Jin queste entità da un'altra dimensione, non esattamente i Jin che conoscono le persone della cultura pakistana, ovvero dei demoni veri e propri ma sono appunto esseri provenienti da una dimensione parallela non un universo, non c'entra nulla il multiverso in questa serie, non è roba del genere però una dimensione parallela alla Terra quella dei Jin, almeno così viene chiamata dal capo del gruppo ma nel terzo episodio è stato detto più volte che in realtà sono chiamati in diversi modi questi personaggi e da qui appunto il fatto che effettivamente non sono i Jin che conoscono quelle culture quelle stesse culture che probabilmente hanno affibbiato questo nome vedendo questi possibili poteri nel passato Jin no no, una cosa è sicura, in questa serie non viene mai nominato il nome degli inumani razza a cui in realtà Kamala appartiene nei fumetti l'ho già spiegato nella recensione il motivo per cui effettivamente non abbiano mai detto inumani in questa serie e il perché abbiano cambiato le origini di Miss Marvel di Kamala ma la cosa più interessante e sinceramente molto bella visto che è una delle poche cose che ho apprezzato del sesto episodio è che hanno in qualche modo cambiato un'altra volta le origini di Miss Marvel o meglio le hanno rivelate realmente infatti in una delle ultimissime scene del sesto episodio della serie Bruno, l'amico di Kamala parlando con la ragazza le rivela che ha scoperto delle cose interessanti tipo una mutazione a tutti gli effetti Miss Marvel Kamala Khan è il primo mutante del Marvel Cinematic Universe almeno il primo mutante dichiarato anche se comunque Kamala dice qualunque cosa sia è solo un'altra etichetta ma passiamo a parlare della post credit perché di fatti nel video recensione non ne ho parlato nello specifico ho detto solamente se mi è piaciuto oppure no più o meno anche quello in realtà ma questo è il video spiegazione del finale quindi ne devo parlare per forza cerco di dare una mia spiegazione a quello che si è visto in questo nemmeno minuto di scena abbiamo Kamala che con il suo costume è coricata sul letto però il bracciale inizia ancora una volta a fare bizze quindi la ragazza si alza e tutto un tratto Captain Marvel, Carol Danvers e sono certo al 100% che sia lei e non Kamala che ha cambiato aspetto per qualche strano motivo perché in primis non sembra assolutamente un comportamento da Kamala e poi perché comunque Kamala dovrebbe in qualche modo conoscere la sua camera sapere che è stra mega fan di Captain Marvel il personaggio che vediamo sullo schermo si stupisce di trovarsi lì e ritrovarsi circondata da Funko Pop Action Figure poster di Captain Marvel nonostante tutto Captain Marvel è comparsa già in due prodotti e mezzo Captain Marvel il primo uscito nel 2019 Endgame uscito sempre nello stesso anno e ora appunto Miss Marvel e in questi tre prodotti diversi ha avuto tre look differenti a questo giro mi sembra uno stile molto simile a questo non sappiamo ovviamente cosa stesse facendo Captain Marvel in quel momento sappiamo però di certo che fino ad agosto 2023 ovvero il mese in cui arriverà The Marvels i due personaggi si sono scambiati il posto spero tantissimo per Miss Marvel, per Kamala che la sua eroina non si trovasse in quel momento a combattere contro qualcuno di importante o magari nello spazio dove non penso Kamala riesca a respirare per questo dobbiamo aspettare il prossimo anno io ve lo dico già ora, lo ripeto perché l'ho già detto nella recensione secondo me ci sveleranno che in realtà i mutanti esistono da molto tempo e in realtà ne abbiamo già visti alcuni e questi sono, a parte Miss Marvel Monica Rambeau che penso si farà chiamare Photon in The Marvels e proprio Captain Marvel secondo me se ci pensate potrebbe essere una retcon abbastanza facile visto che comunque hanno già cambiato le origini di Miss Marvel quindi già che ci sono perché non cambierà anche Captain Marvel così abbiamo le tre mutanti in The Marvels ora, non so se questa parte in voiceover registrata dopo potrebbe avvalorare quel che ho detto finora ma editando la scena post-credit mi sono accorto di un dettaglio alquanto interessante e molto difficile da trovare quando inaspettatamente scompare Kamala dallo schermo per far comparire appunto Carol Danvers non c'è solo un getto effettivo all'indietro ma c'è questa strana onda onda che non sembra assolutamente simile a quelle viste in questa serie non sembra fatta di luce come tutti i poteri di Miss Marvel sembra qualcosa di diverso ma il punto su cui voglio focalizzarmi di più con questa parte sono questi dettagli non so voi ma io qui non vedo solamente i colori di Captain Marvel e di Miss Marvel guardando la scena rallentata ho avuto modo di notare che in questo garbuglio di cose, non saprei dirvi cosa compare per pochissimi, davvero pochissimi frame quella che sembra la testa e l'acconciatura di Monica Rambeau vista in WandaVision se in questo caso ho davvero avuto un occhio di falco può significare solamente una cosa lo scambio non è avvenuto solo tra Kamala e Carol di mezzo c'è anche Monica Rambeau questo potrebbe essere tranquillamente l'incipit di The Marvels le tre totalmente a caso si sono ritrovate in dei posti diversi da quelli in cui erano e quindi in realtà potrebbe essere andata così Carol Danvers è finita a casa di Kamala per fare per forza uno scambio Kamala non si trova al posto di Carol Danvers ma si trova in quello in cui stava Monica Rambeau e quest'ultima si trova adesso dove stava Carol Danvers ora ripeto poi magari in The Marvels o nel futuro del Marvel Cinematic Universe scopriremo che queste tre soprattutto sono delle mutanti e quindi magari è questo il collegamento che fa succedere tutto ma siccome molti youtuber pensano che questa nuova saga avrà come punto centrale la tecnologia vista appunto in Miss Marvel con il bracciale e anche nei Dieci Anelli di Shang-Chi può essere che anche le altre due protagoniste di The Marvels sono entrate in contatto con questa tecnologia con qualche altro oggetto magari tutte allo stesso tempo vi ricordo che comunque Captain Marvel ho sbagliato nel video e compare anche nella post credit di Shang-Chi e Wong ha parlato di questi Dieci Anelli come un segnale stanno mandando un segnale molto probabilmente Captain Marvel in quel momento stava toccando proprio i Dieci Anelli Monica Rambeau invece non saprei dirvi sicuramente ripeto scopriremo tutto ad agosto 2023 ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto se questa serie vi è piaciuta io vi invito ancora una volta a guardare la recensione completa con spoiler dei 6 episodi trovate il link in descrizione ma anche nelle schede oppure semplicemente basta cercare sul canale e lì e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao